Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Allora, siamo arrivati alla quarta parte, quindi andremo a vedere un po' il funzionamento dei parametri autoconsistenza e simulazioni all'interno di Power Query. Allora, ho ampliato un po' la sezione e faremo 5 lezioni che trattano appunto questi argomenti. Iniziamo con la prima. Praticamente andremo a vedere come costruire un parametro dinamico per poi andare a fare il calcolo di un lead time medio pesato. Non ho nessuna paura, se non sapete che cos'è il lead time adesso ve lo spiego. Allora, andiamo nel nostro file di esempio che ho preparato. Praticamente qui abbiamo una tabellina che ci arriva dal sistema. Ovviamente quando si calcola il lead time di solito sarà anche più informazioni, però questa è abbastanza sintetica e per il nostro esempio ci basterà. Praticamente nella prima colonnina noi abbiamo una data di fine pronunzione. Significa che in questa data noi avremo consegnato a magazzini dei pezzi che avevamo in produzione. Qui abbiamo i prodotti che abbiamo lavorato e qui abbiamo la quantità che abbiamo consegnato in questa data. Quindi significa che il primo di maggio ho consegnato a magazzini 5 automobili Fiat Panda. Questa qui è una colonnina che si chiama lead time, che non è altro che il tempo risultante dalla data start alla data fine di inizio produzione e fine produzione di queste 5 automobili. Quindi per produrre queste 5 automobili i giorni totali, adesso qui l'unità di misura è in giorni, sono stati 61 giorni. Quindi in 61 giorni ho prodotto queste 5 automobili. Il lead time non è altro che il numerator diviso la quantità. Facendo questo calcolo qua, otteniamo il lead time medio per queste 5 automobili di costruzione. Quindi ogni automobile è stata costruita in una media di 12,2 giorni. Quindi il lead time è appunto il tempo che impieghiamo a produrre il nostro pezzo. Adesso facciamo un approfondimento sul numerator così poi capirete ancora meglio il lead time. Ho fatto una tabellina qua sotto di esempio, praticamente prendendo in esempio la prima riga, ok, che sono andato a fare un'esplosione con la data di start e la data di fine. Ho ipotizzato che due pezzi, quindi due auto, sono state startate il 12 aprile e sono state ovviamente consegnate il primo maggio come è descritto qua. Le altre 3 invece sono partite con un po' di ritardo, quindi sono partite il 18 di aprile. E anche loro sono state consegnate il primo maggio e quindi vediamo che fa appunto 5. Solo che queste due auto hanno impiegato più tempo, hanno impiegato 14 giorni lavorativi per essere prodotte. Quindi facendo 14 per due pezzi abbiamo un tempo di produzione che è di 28 giorni. Invece questa che ha impiegato meno tempo, ok, si fa 3 per 11 giorni, mi dà 33. La somma di questi due valori mi dà il numeratore che è 61 e la media di produzione appunto è di 12. Se guardassi il calcolo esatto di ogni singolo componente, questa mi direbbe che le prime due ci hanno messo 14 giorni e le altre 3 ne hanno messe 11. Il lead time mi fa la media di pezzi col tempo pesato appunto sul giorno di consegna, quindi stiamo guardando questa riga qua. Io qua come esempio ho preso 3 prodotti, quindi Fiat Panda, Bravo e Punto e sto analizzando una settimana di lavoro. Quindi ipotizziamo che una fabbrica che produce questi pezzi qua io voglio vedere in questa settimana come sta andando il mio lead time medio. Allora cosa significa lead time medio? Se io faccio la media di questa colonna qua Excel mi dice che è 20,35 però se guardiamo qui nella colonna G in questa formuletta che ho fatto mi dice 19,19 e quindi questo è un lead time medio pesato a differenza di questo che è un lead time medio che può essere forbiante anche sbagliato. Perché? Perché questo fa il calcolo, praticamente fa la somma del numerator, quindi prende questa colonna qua, somma tutti i valori, quando li ha sommati li divide per la somma della quantità. Così facendo si fa un calcolo pesato sui pezzi che abbiamo prodotto ed è più corretto da leggere. Quindi in realtà mi dice che in questa settimana di lavoro il mio tempo di produzione medio per ogni singola auto è di 19,19 giorni. Per calcolare questa cosa qua ovviamente con Excel è semplice perché si fa la somma, la somma e poi si fa la divisione, però a noi adesso andremo a calcolarlo su Power Query così poi avremo come risultante questa cosa qua, avremo queste due tabelline qua, praticamente una tabellina risultante e anche una pivot. Cosa mi esprimono il risultato che andremo ad ottenere? Mi dirà praticamente abbiamo le stesse informazioni che avevamo alla partenza che sono queste. Qui mi dirà la differenza, praticamente riporterò su tutte le righe e l'età in medio pesato, e qui mi dice la differenza per ogni giornata, per ogni giornata prodotto, rispetto all'età in medio pesato quanto ci ho impiegato più o meno. Ad esempio queste qui mi dice che sono stato bravo perché ho impiegato meno 6,99 giorni. Invece questa qui mi dice guarda che quelle che hai consegnato in queste date, questi 8 pezzi probabilmente hanno avuto un ritardo, perché comunque, no è sempre meno, scusate, queste qui che è positivo, qui Fiat Bravo probabilmente c'è stato qualche ritardo, quindi magari si può andare a fare un indagino, un'analisi per capire perché ci ho messo 6 giorni in più rispetto alla media, qui invece sono andato bene. E poi qui ho fatto semplicemente un assunto con la pivot, che ho detto per prodotto, mi fai vedere le quantità che ho consegnato in questa settimana lavorativa, mi fai vedere il totale dell'età, quindi qui fa semplicemente la somma, vedete ad esempio Fiat Panda abbiamo un totale di 104, eccolo qua, e poi ovviamente mi fa anche la somma dell'età in medio, e mi dice, mi fa il rapporto, praticamente mi dice se sono stato bravo oppure no, quindi qua sembra che con le panda sembrano essere molto veloci da produrre, invece le bravole appunto sono lente, solo appunto andrebbe fatto un approfondimento per capire perché di media impiego, ho impiegato 40 giorni in più per produrre questi pezzi. Allora, andiamo a capire un po' su Power Query cosa andiamo ad imparare oggi, praticamente per fare questa cosa qua io ho bisogno di utilizzare un parametro dinamico, che praticamente cambia con i valori che mi arrivano dal sistema, è un po' come funziona il DAX, a seconda del contesto, del filtro che io vado a fare nella pivot, in Power Pivot, io posso costruire delle formule dinamiche che cambiano appunto il mio risultato in base al set di dati che sto filtrando in quel momento. Adesso faremo una cosa simile su Power Query, praticamente andremo a calcolare la somma di questa cosa qua, la somma di questa cosa qua, e poi la divideremo per ottenere questo valore qua. Però se poi io andrò nella base di dati, andrò a cambiare i pezzi prodotti, o cambierò anche il tempo, io vedrò che il parametro cambia, quindi non sarà un parametro fisso, e Power Query lo calcolerà in automatico tutte le volte. Così se noi andremo ad estrarre un set di dati differente, magari la prossima settimana andiamo ad analizzare un'altra settimana lavorativa, noi basterà aggiornare il modello che ci darà tutti i risultati pronti e finiti. Un'ultima cosa, poi passiamo all'operatività, io questo calcolo adesso lo faccio in Power Query, una differenza rispetto al DAX è che se lo faccio in Power Query, quando io vado ad aggiornare il report, lo faccio una volta per tutti quanti, quindi se gli utilizzatori poi sono tanti, in questo caso è vantaggioso per questo specifico caso, perché lo faccio io in update, con un robot o io stesso, e poi distribuisco il file col calcolo finito. Se invece facessi questa formula con una funzione DAX, quando gli utenti aprono il file e vanno a fare il filtro sulla pivot o quello che devono fare, utilizzano le loro risorse. Quindi se utilizzano un server e lavorano tutti là, ogni volta che fanno il filtro e interaggono questo valore, andrebbero a spendere risorse di RAM e di CPU. Invece facendolo io lo do già finito, così quando gli utenti leggono il file finito, non sfruttano Power Pivot perché hanno già il calcolo pronto e quindi succhiano meno risorse. Questa è una cosa che dovete sempre un po' valutare, lavoro più su Power Query o lavoro più su Power Pivot. Da progetto a progetto, da seconda di quello che dovete fare o non fare, è una valutazione che va sempre un po' pesata. Bene, non mi soffermo molto, andiamo nel dettaglio. Allora entriamo su Power Query, praticamente io ho preso questa tabellina qua, cliccando su di essa, menu dati e ho premuto il bottone da tabella intervallo, così l'ho importato in Power Query. Adesso io questo l'ho già fatto, così andiamo a vedere. Chiudiamo gli altri progetti che sono per le prossime lezioni. Ecco qua, praticamente ho importato questa tabella qua, appunto che è questa. Come vedete, lui la importa, poi mi crea anche un passaggio di modifica tipo qui sulla destra. E qui non ho fatto altro che ridefinire meglio la formattazione dei miei campi. Ho messo una data, un testo e tre misure con valori decimali, così non ho difficoltà a lavorare con i decimali. Poi cosa ho fatto? Sono andato a creare i primi due parametri. Uno è questo sulla sinistra e quell'altro è questo. Praticamente qui calcolo la somma della quantità, quindi avrò un numero risultante, e qui calcolo la somma del numerator. Allora, per fare questo ovviamente devo partire da questa tabellina qua, perché le informazioni sono qua. Quindi, per ottenere il nostro risultato, devo creare delle query nuove. Per fare questo, tasto destro, e facciamo riferimento. Adesso ne facciamo una, che è così, vediamo anche come funziona. Parametro dinamico quantity, ad esempio. Adesso andiamo a replicare questo. Quindi da qua cosa ho fatto? Praticamente sono andato a fare, la somma della quantità. Allora, quindi dal menu 1, premiamo il bottone raggruppa. Qui vedete, su base mi dice che devo per forza mettere anche una dimensione in raggruppamento. Se noi andiamo su avanzate, con i tre puntini facciamo elimina, così eliminiamo la dimensione in raggruppamento. E qui possiamo mettere la nostra misura. Quindi facciamo quantity, somma, e sommiamo la quantità. Facendo così, ecco che io ho ottenuto la somma, che questo è appunto la somma della nostra colonna quantità. Sul numerator poi ho fatto la stessa cosa. Perfetto. Adesso, praticamente poi, sempre partendo dalla tabella originale, ho fatto un altro riferimento, e ho creato qualche risultato. Quindi da qui, ok, sono andato a creare, vedete, il lead time, la differenza del lead time, prendendo i valori che sono su queste due query. Quindi con questo sistema vado a recuperare informazioni che stanno su altre query. Vado a recuperarmi i parametri che sono dinamici. Però, vedete che questa qui, che abbiamo appena creato, ha il simbolo della tabellina. Quindi è una query che restituisce una tabella. e questa query qua non la possiamo andare a leggere. Per fare la lettura, e quindi farla diventare in 1, 2, 3, così otteniamo un valore univoco, numerico, bisogna che la trasformiamo in questo modo. Per fare questo passaggio qua è molto semplice. Ipotizziamo anche che come risultato abbiamo anche più record, questo non importa. Noi facciamo clic sul record che ci interessa, quindi abbiamo selezionato questo, vedete, è verde. Facciamo clic destro e premiamo su drill down. Premendo questa cosa qua, facendo clic su quel bottone là, vedete, qui dice che il campo era quantity, quindi qui mi crea un passaggio che si chiama quantity, e mi restituisce un valore di 69. Quindi il risultato di questa query qua è il valore 69, però non è una tabella, è un numero che io posso andare a richiamare con una funzione. Ok, e così facendo ho fatto anche appunto il numerator, vedete. Perfetto, adesso cancelliamo questo passaggio che l'abbiamo visto e appreso. e qui ho creato appunto i miei parametri. Se io poi esco nel mio Excel e qui avevamo 69 nella quantità, qui ci metto ad esempio 6, ok, quando io entro ovviamente vedete che qui sul parametro dinamico, adesso lo ricalcola, è passato da 69 a 70, appunto incrementato di 1, quindi vedete che il parametro cambia. Perfetto, andiamo a vedere come si fa a richiamare questo parametro. Allora, vediamo il primo passaggio che ho fatto. Praticamente io qua ho fatto menu aggiungi colonna, colonna personalizzata e ho creato un nuovo campo. Entro sulla definizione del campo, qui ho dato il nome della colonna, facciamo uno zoom e vediamo la formula che ho fatto. Praticamente, per calcolare la differenza del lit time io devo fare il mio lit time, quindi il lit time che ho su questa colonna qua, che è il tempo appunto che abbiamo impiegato per produrre queste auto, meno il lit time medio pesato che appunto abbiamo detto che è la somma del numeratore diviso la somma della quantità. Perfetto, vediamo come ho fatto a importarmi questi numeri che abbiamo qui sulla sinistra. Io ho messo lit time, ok, meno, ho aperto la tonna, anche se non serve perché comunque la divisione ha la priorità, ripeto la sottrazione, e poi ho utilizzato questa funzione qua, number from, quindi prendi il numero da, da cosa, apro le parentesi, gli dico hashtag, virgolette, e poi metto il nome della query. Vedete, 0,3 è parametro dinamico, lit time numero, è proprio il nome della query, quindi qui per richiamare il valore che all'interno di questa query qua basta usare number.from e il nome della query. Poi ho fatto diviso, facciamo un altro invio, un altro number.from, lo mettiamo in linea, non mi lascio, e facciamo un'altra tonna e prendiamo l'altro parametro, così facciamo questo, diviso questo, poi quando ho fatto questo, meno, il lit time farà meno, il risultato di questa cosa qua. Una nota, qui vedete che c'è appunto l'hashtag, le virgolette, può essere che magari non lo vedete quando la compilate voi. Io qua ho messo un numero, se io inizio il nome di una query con un numero, sono obbligato ad utilizzare l'hashtag, le virgolette. Se io non avessi usato il numero, e qui l'avrei chiamata così, ok, avrei potuto anche scrivere la query così, quindi avrei potuto scrivere number.from e qui richiamo semplicemente il nome della query. ma se io uso un numero all'inizio o dei caratteri speciali, lui mi costringe ad utilizzare l'hashtag e le virgolette perché per lui il numero all'inizio potrebbe significare anche qualcos'altro, quindi è un po' come mettere tra parentesi il suo valore. Quando facciamo una query in SQL tante volte mettiamo i campi e mettiamo le parentesi quadre, quella stessa cosa. Comunque se voi lo scrivete sempre, a priori funzionerà sempre. Quindi ecco qua, questa è la formula, quindi il primo passaggio è stato appunto questo e ho calcolato, adesso annullo l'operazione, ho calcolato l'e-time medio pesato, quindi già qua siamo a un buon punto. Poi ho fatto l'e-time pesato, anche qui ho fatto una nuova colonna, quindi aggiungi colonna personalizzata, andiamo a vedere come ho fatto la formula. Ho fatto la stessa identica formula di prima, solo che non ho messo l'e-time meno, così ottengo l'e-time medio pesato. vediamo appunto il primo diviso il secondo parametro. Poi ho fatto un'odifica tipo, ho messo 1-2-1-2 in modo che sia decimale e ho importato all'interno del mio foglio Excel, questa cosa qua. Se adesso noi, qua, rimetto 5, ok? Adesso metto 10 qui, vedete? Io ho cambiato l'e-time medio pesato, qui è già cambiato, se io adesso aggiorno questa tabella qua, vedete? Qui è cambiato il valore. Se qui cambio e dico che non è 61 ma è 75, piuttosto che qua è 5, qua è 35, ok? Quando aggiorno, vedete i parametri dinamici che abbiamo messo in Power Query mi cambiano il contesto del mio risultato. Questo è veramente molto utile perché poi nelle prossime lezioni andremo a vedere anche come inserire parametri dinamici all'interno di Excel, quindi noi scriveremo magari una data all'interno di Excel che farà da filtro per le query su Power Query. Quindi se abbiniamo le due cose noi potremo filtrare la data, in questo caso qua potremo filtrare la data che voglio analizzare questa settimana qua. E la prossima settimana gli dico che voglio analizzare un altro periodo temporale. Così facendo io passo dei parametri, uso i parametri dinamici e ho il mio risultato in un attimo. Bene, con questa lezione è tutto. Come sempre, se vi è piaciuta lasciate un like se avete domande ponetele nei commenti sotto il video e se so cercherò di rispondervi. Condividete il video se ne avete voglia nei vostri social e ci vediamo alla prossima lezione. A presto, ciao!